Salve a tutti, in questo video vediamo come completare il Sacrario di Wago Kata su The Legend of Zelda Breath of the Wild. Allora, la prima cosa è opzionale, arrampichiamoci qua su se vogliamo aprire il baule. Ecco qua. Ora, selezioniamo il Calamitron e dobbiamo spostare questi tre blocchi per arrivare a quel ponte laggiù. Quindi, spostiamoli. Una alla volta, perché tanto anche se lo prendiamo dal basso, crollerà. Se poi ci riuscite, meglio. Comunque lo appoggiamo qua e rifacciamo la torre, esattamente come quella di prima. Secondo. E terzo. Arrampichiamoci, prendiamo il ponte e lo buttiamo di sotto. In questo modo. Ora, torniamo di sotto. Spostiamo tutti e tre i cubi e questa volta dobbiamo piazzarli in mezzo fra questa parete e l'altra. Quindi più o meno qua. Quindi li spostiamo tutti e tre, poi prendiamo il ponte e lo piazziamo qua, in modo da avere un passaggio per salire. Adesso dobbiamo solo arrampicarci fino in cima, ovviamente, e poi possiamo, grazie al ponte, andare a completare la missione del Sacrario. Ed ecco fatto. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti.